c'è la riva spiniamo questo non c'è neanche nessuno venivi anche senza guinzaglio più che altro per le macchine non ci sono macchine vedi non avrò scelto un posto molto nature però ragazzo sono qui con l'amorosa chiamami mona che mi sembra anche giusto come esempio da dare all'italia perché insomma se tutti quelli che hanno il camper indipendentemente dal fatto che siano full timer eccetera prendono e se ne vanno dove vogliono hai capito e allora chiunque un camper può prendere andare in giro dove cavolo vuole un po di paura ad andare il primo aprile a far la visita di al centro di medicina perché se ci ragioni i dati storici se lo insegnano c'è lo testimoniano maggior rischio di infezioni però prendi proprio nelle strutture ospedaliere no e quindi anche quel centro di medicina insomma se la struttura ospedaliera quindi si ripeto le parti più pericolose sono proprio gli ospedali e le farmacie cioè se dove che va tutti i malati non è che che girano le magagne poi io come tanti altri stiamo ancora vivendo abbastanza nella paura perché allora a leggere si ok abbiamo capito che sto virus non si trasmette proprio così nell'aria della serie camminando lontano dalla gente però c'è sempre sto dubbio sai questo dubbio che c'è tipo adesso non c'ho nessuno per chilometri cioè sono solo io ok però c'è la paura che se mi avvicino tipo i bidoni all'immondizia piuttosto che se si alza del vento no te la prendi non lo so un po come i malanni di stagione no che prendi quando prendi freddo tutte le villette da sky qua tutti i vicini da sky anche qua aspetta perché da quando ho forzato gli iso a star bassi non sarebbe un caso buona farà che viete da sky e qua a vieta mobile da 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 poi reti a 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 b buongiorno italia benvenuto nei miei 200 metri di giardino oggi provo a rispondere a una domanda nei limiti delle mie possibilità e capacità perché è una domanda un po' particolare ossia per chi vive in camper quale sarebbe stata la miglior soluzione oggettivamente per isolarsi io ti posso raccontare senza ombra di dubbi la mia scelta perché l'ho vissuta io in prima persona quindi so quello che è passato per la mia mente conosco la mia situazione i pro i contro e tutto quanto allora io senz'altro avrei preferito andarmene in montagna tipo a tramonti riva uruscello con dei bei panorami eccetera eccetera ho scelto invece di stare qui davanti alla casa dell'alessia quindi praticamente in mezzo a una strada in un parcheggio di una strada sostanzialmente per quella che molti possono chiamare famiglia perché in fondo è la mia compagna ma è pur sempre insomma una famiglia no è un nucleo è un insieme di un qualcosa quindi rinunciare a queste cose importanti per andare a giocare non so in brussa piuttosto che a tramonti o che ne so io non mi sembra molto a parte maturo neanche tanto umano insomma ecco però insomma questo ovviamente sto sto parlando di me di me ovviamente perché poi mi è stato chiesto ma cosa ne pensi di chi si è isolato qua chi si è isolato là ti dirò alla fine per quanto sembra uno simolo sta storia ma alla fine è andato benissimo così chiunque ha fatto cose diverse da quelle che dovevano essere fatte ha fatto comunque bene perché mi metto non so nei panni molta gente che al camper abbiamo visto no in liguria piuttosto che in altre regioni mi pare anche la toscana no erano stati diciamo un attimo presi di mira dalle forze dell'ordine perché giustamente si dice dovete stare a casa e ve ne andate in giro in camper questa è una cosa molto delicata si non so se hai letto sto articolo di stiliguri e o toscani perché loro alla fine comunque si isolano ok certo c'è il contro che se così dovessero far tutti allora ci ritroveremo con migliaia e migliaia di camper in giro a zunzo per l'italia e avanti indietro per carico scarico e far la spesa e questo e quello hai capito perché non si avrebbe un punto centrale dove hai a disposizione tutti i servizi come li puoi ad esempio avere se te ne stai a casa insomma ecco se un camperista se ne sta a casa perché l'alimentare lì vicino non deve fare carichi acqua non deve fare scarichi eccetera eccetera hai capito quindi sì sì secondo me a quei camperisti mi pare non gli hanno fatto niente perché erano in regola però insomma potevano dare il buon esempio agli altri italiani rimanendo a casa insomma loro che ne avevano la possibilità perché conto magari uno che è costretto non ha amici non ha fidanzate non ha parenti c'è proprio solo al mondo e allora la sì ovvio è una costretta a vivere in camper e va dove vuole insomma ecco però per fortuna il popolo italiano è un popolo estremamente distratto infatti nessuno ha detto anche io il camper dai che lo faccio anch'io anch'io vado qua anch'io vado in spiaggia anch'io vado nella costa ligure a vedere il mare eccetera eccetera per fortuna per fortuna se no eravamo appunto a capo hai capito però per fortuna in italia in questi casi non funziona neanche il cattivo esempio oltre che non funziona il buon esempio insomma mentre secondo me ovviamente sto dando solo le mie opinioni personali a delle domande che mi sono state fatte secondo me la cosa più intelligente da fare per chi ha il camper era di stare a casa cioè veramente se uno ha anche la casa o degli amici dei parenti eccetera e ragazzi è un'emergenza non è un gioco quindi la cosa più intelligente era appunto di starsene a casa anche se tu hai il camper e la casetta mobile cioè comunque stai a casa sei di cattivo esempio e comunque non aiuti a fermare sta pandemia andando avanti indietro carico e scarico eccetera 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 però per quanto riguarda invece i full timer diciamo chi ci vive in camper secondo me è la cosa più intelligente da fare che non l'ho fatta neanch'io per motivi diciamo sotto certi punti di vista anche egoistici no perché volevo stare con la mia famiglia ossia con la mia ragazza perché altrimenti se volevo continuare a vivere in camper ok perché altrimenti potevo chiudere il camper parcheggiarlo e starmene direttamente dalla compagna se invece volevo continuare a vivere in camper ok allora lì in quel caso la cosa più intelligente da fare era andarsene in un'area sosta magari un'area sosta gratuita perché perché in quel caso andando in un'area sosta gratuita allora ti fai il pieno di spesa non devi andare avanti indietro per il carico dell'acqua non devi andare avanti indietro per scaricare l'acqua o le nere e non devi andare a comprare spesso le bombole del gas o riempire il bombolone perché ti attacchi a corrente ti metti una stufetta elettrica e ti attacchi a corrente hai capito quindi il gas lo usi veramente poco però va bene ragazzo mi raccomando mi fai delle domande io ti rispondo che non vengano su casini che dopo dici ah ma anch'io ero uno di quelli che ero in Liguria in Toscana o che cazzo ne so io no mi raccomando mi hai chiesto una cosa e io ti ho risposto con intelligenza dicendoti le mie idee in merito ho metto sempre le mani avanti perché purtroppo abito in un paese dove c'è tanto vittimismo dove tutti si sentono sempre attaccati e sono sempre sulla difensiva pronti a graffiare e allora io mi metto sempre avanti e soprattutto ti parlo anche di me ma ti parlo di me apertamente della serie ti ho raccontato che neanche la mia è stata una soluzione intelligente e di buon esempio per l'Italia perché io che ho la fortuna di avere una fidanzata a differenza magari di tanti altri che non ce l'hanno che non hanno una famiglia non hanno degli amici potevo andare tranquillamente a vivere con la fidanzata oppure a casa di mia mamma a casa di mia nonna oppure dagli amici hai capito quindi ho scelto io di continuare in camper e ho scelto una zona come dire un po' almeno peggio della serie che mi evitasse di fare avanti indietro per andare a trovare la fidanzata giustamente e quindi azzeriamo quegli spostamenti là ci sono stati uno spostamento bene o male alla settimana in quel spostamento raggruppo il far la spesa con il fare il pieno del GPL e i carichi dell'acqua insomma se non avessi avuto una compagna amici famiglia eccetera 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 la cosa più intelligente qual era lo ripeto per un full timer andare in un'area sosta gratuita dove hai tutto e lì stai veramente fermo se no continui a fare la vita di prima e hai la scusa e io vivo in camper hai capito ma questo te lo dico anch'io cioè va contro anche i miei interessi so che è scomodo a volte sentire parlare qualcuno senza peli nella lingua però ragazzo bisogna anche imparare che ormai siamo grandi a guardare le cose come stanno ossia la verità muzie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione